Buongiorno amici ascoltatori dell'opinione equestre, terza giornata di gara qui all'Arezzo Equestrian Center. Siamo in compagnia di tre giovani Amazzo e ora adesso intervisteremo. Allora, buongiorno, tutti chiami? Esther, Carolina, Eleonora. Bene, adesso gli chiederemo a tutte e tre come hanno trovato gli impianti ristrutturati dell'Arezzo Equestrian Center. Benissimo, a me piace tantissimo Arezzo. È una cosa magnifica. Bello come sempre, mi piace molto. Bene, e la seconda domanda, gli chiederemo i loro programmi per il 2016, quindi dove montano il loro istruttore. Allora? Allora, noi montiamo tutte e tre al centro di Pico Toscano. Io ho l'istruttore Luca Vargiù e sicuramente quest'anno faremo molte gare. Cattolica, Agroppoli, speriamo di tornare anche qui. Io monto invece con Matteo Giunti, sempre al centro di Pico Toscano. Nel 2016 vorrei prendere almeno il secondo grado e fare tantissime gare e vincere. Anche io monto al centro di Pico Toscano con Matteo Giunti e spero di fare altre gare anche qui ad Arezzo. Poi insomma, vediamo. Bene, ringraziamo le tre giovani Amazzo e noi vi facciamo un grosso in bocca all'uovo per il loro futuro. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Grazie a tutti.